Andate per presepe dall'unitredi piano di sorrento, le signore hanno preparato questa piccola meraviglia, quasi un unicum nel panorama, generalmente viene fatto lo scoglio, vengono fatti i pastori, ma in questo caso, Joanna vuoi spiegarci la tecnica di questo presepe? E poi, soprattutto, ci puoi presentare le tue collaboratrici? Tene Maria Raggiulo, Cristina Starace, Barbara Contoro, Teresa Raggiulo e Lidia Simone, e poi le altre importanze altre, e qui diciamo il nome, Tane, Eugenia Cuomo, Andreina Risconti, Antoinette, Pugliamoli i dettagli particolari, tutto fatto a punta di acqua, Tutto a mano e pittura, pittura su stoffa e fondale, e poi applicazione a macchina, poi applicazione fatta tutta a mano, tridimensionale Tridimensionale, questo presepe parteciperà al concorso messo su dal Bartolomeo Capasso come ogni anno, sia come sezione 1.3 e sia come laboratorio Lavoratorio di cucita e pittura su stoffa Cucita creativa e pittura Meravigliosi questi dettagli della Natività La coroncina su San Giuseppe Grazie Auguri, complimenti, signora Nome Edith Simone Donna Conna Barbara Teresa Lucia Maria Maria я